Buongiorno a tutti, io sono Liberato di Leo, responsabile di vendere e marketing di Medica. Colgo questa opportunità che mi dà Audiologi di ringraziare il professor Filippo per questo speciale CEO di Nissan. Ma in particolare voglio darvi un appuntamento, un appuntamento all'anno prossimo, dove Maiko avrà un anno speciale, festeggerà i suoi 30 anni di storia. Ottanta anni speciali con una grande sorpresa, una sorpresa che stiamo preparando da tempo. Una piccola parte l'abbiamo già iniziata quest'anno, cambiando la nostra sede, allocandoci nel grattacielo più bello di Roma, alla Sky Tower, perché vogliamo dare una nuova spinta. Noi abbiamo 80 anni ma siamo giocattissimi e vorremmo esserlo ancora per altri 80 anni, ancora più giovani. sempre puntando sul nostro organismo, sulla nostra fortezza, che sono i nostri concessionali esclusivi, ma soprattutto sulla nostra competenza, sulla nostra passione. Vogliamo dare nuovi input, nuovi messaggi all'interno, puntando tutto sulla competenza, sulla professionalità, ma soprattutto sui benefici da fornire e dare al vento finale, grazie alla tecnologia.